C'è un terapista cognitivista e lavora in un centro che si chiama centro di terapia metacognitiva interpersonale. Giancarlo Di Maggio è un clinico molto esperto e uno degli italiani in area cognitiva che pubblica di più su riviste importanti all'estero, soprattutto recentemente si è occupato di metacognizione nella psicosi. E comincio dalla prima domanda, ciascuno di noi ha dei principi a cui si riferisce, quali sono secondo te i principi rinunciabili per te? Guarda, sarebbero tanti, ci ho riflettuto e forse quello che mi è più a cuore, quello che guida di più la conduzione della seduta e la ricerca costante di un assetto relazionale di contatto con il paziente. Qualunque intervento io faccia, sia un intervento tecnico volto al cambiamento sintomatico, volto all'incremento delle capacità riflessive, volto alla programmazione di esperimenti comportamentali per costruire nuove aree di sé, mi rendo conto che il mio obiettivo primario è sempre quello di cercare un feedback e capire che io e il paziente siamo sullo stesso livello, siamo connessi e condividiamo lo scopo. Se qualunque segnale, verbale, non verbale, mi dice che qualcosa nella relazione non sta funzionando, cambio completamente la gerarchia, l'assetto della conduzione della seduta e voglio capire che sta succedendo, finché non si è ristabilito il contatto. Senti Giancarlo, ma questo principio così relazionale come si traduce tecnicamente in come tu lavori? È una sorta di principio che accompagna tutto il resto. Chiaro che nel modello metacognitivo interpersonale, nella terapia metacognitivo interpersonale, abbiamo degli obiettivi finalizzati al miglioramento dei sintomi, al miglioramento delle capacità metacognitive, autoreflessive, chiamiamolo come ci pare, e alla ristrutturazione della personalità. Quindi questi sono gli obiettivi che perseguiamo. Questi obiettivi sono perseguiti nel contesto di un dialogo in cui la connessione umana, il contatto, la condivisione e la condivisione degli obiettivi devono sempre essere percepibili. Se non lo è un obiettivo, non lo porterei come un obiettivo di carattere morale, di carattere di principio. Semplicemente, la percezione sia clinico, nel senso che se non c'è contatto tutto il resto funziona meno bene. E se tu mi dovessi dire questo tecnicamente come lo fai e che cosa vuol dire? Che è la terza domanda. Assolutamente, ma noi passiamo da una domanda all'altra. Allora, la gerarchia dell'intervento dipende da tanti fattori. Mettiamo che stiamo lavorando su un sintomo, in un paziente che ha anche un disturbo di personalità. Per cui esplori i meccanismi psicopatologici, i processi cognitivi e affettivi sottostanti al mantenimento del sintomo e io esploro il feedback del paziente. Lo guardi, costantemente c'è un contatto, un'attenzione estrema al feedback, al feedback verbale e non verbale. Anche facciale. L'attenzione alla prosodia, all'espressione facciale, ai gesti è costante, oserei dire ossessiva. Se sento che mentre sto applicando una tecnica, un intervento, esplorando qualche cosa, chiedendo delle cose, chiedendo degli episodi narrativi, ma il paziente mostra dei segnali che mi fanno intuire che nella sua mente c'è altro, c'è qualche cosa di disturbante, c'è qualche cosa che non gli permette di seguire l'intervento o che magari c'è qualche cosa con me, a quel punto sposto l'attenzione sul che cosa le sta succedendo in questo momento. Quindi vai sull'ore adesso. Sull'ore adesso. Con domande dirette. Con domande, con osservazioni dirette e con domande dirette. E soprattutto una cosa che faccio sempre, c'è qualcosa che sta funzionando o non sta funzionando adesso legata a me? Cioè costantemente come terapeuta e i miei colleghi all'interno del modello condiviso, è un terapeuta che si mette in gioco continuamente. Cioè si sente parte della costruzione del processo relazionale, se ne prende carico di gran parte della responsabilità e vuole costantemente dare al paziente la possibilità di capire che esplorare la mente del terapeuta ed esplorare come sta andando il processo terapeutico è un luogo sicuro. Lo si può fare, il terapeuta lo invita a fare. Lei ha qualche cosa che io sto facendo che non funziona? Me lo dica. Perché così mi aiuta a diventare un terapeuta più adeguato e a riprendere vicinanza con lei. Ah ok. Questa cosa qui tu lo fai anche guardando lo spostamento d'occhi? Qualsiasi segnale, insomma. Per esempio c'era una paziente che iniziò la prima seduta, una terapia che sta andando avanti, molto bene, anche presente nell'ultimo manuale, ho preso alcuni estratti da questa terapia, fece la prima seduta e guardava la porta e la finestra, no? E le chiesi ma che succede? E le disse guardi, le devo dire, sono venuta perché sto molto male, avevo un lutto recente che poi di fatto era sotteso da altre strutture, però io non ho grande fiducia negli psicologi, non so se come categoria funzionate e io ci ho molto chiara la via d'uscita, no? E io le dissi subito, guardi, si vede, si sente, lo capisco, lo rispetto, se nel corso della nostra conversazione continua a avere questi segnali, me li dica, se io faccio qualche cosa che li rinforza, me lo dica. La terapia poi è andata benissimo perché poi c'era tutto un tema legato... Avete creato anche un'alleanza in cui questo poteva essere fatto... Poteva essere, assolutamente. Poi aveva tutto un tema di evitamento delle emozioni dolorose legato al lutto, ma questo è stato poi ampiamente affrontato. Ma tu fai anche delle confrontazioni più dure? Perché in realtà tutto è in un'alleanza, ma esistono anche dei momenti della terapia in cui bisogna dire no, un attimo, questa cosa è difficile... Allora, soltanto in caso di rotture dell'alleanza estreme, cioè se il paziente diventa irrispettoso, ma deve essere proprio irrispettoso in maniera sgradevole, volgare, sgarbato, aggressivo, eccessivamente seduttivo, questo magari capita più alle protege donne che possono affrontare pazienti che diventano estremamente seduttivi, anche intrusivi, allora sì, guardi, mi scusi, questo è un'area che, diciamo, io ho rispetto verso di lei, lei abbia rispetto verso di me, perché non ci sono le precondizioni per la terapia, quello che farebbe probabilmente, insomma, non so, penso che il gruppo di Clarkin e Kerbert lavorano molto in quella direzione, ma credo che sia un principio generale della terapia, ma al di là di casi estremi, l'intervento duro, diretto, normativo, è una cosa che cerchiamo per quanto possibile di evitare. Senti, c'è un'altra domanda che è questa, tu, quando una terapia, tu hai detto questa terapia è andata bene, come valuti nel tempo, hai delle procedure per valutare l'andamento delle terapie? Ci sono vari parametri, ci sono dei parametri, anche testistici? Tutti e due, ci sono dei parametri del colloquio clinico e dei parametri testistici, allora i parametri testistici, dal punto di vista operativo, in questo momento nel nostro centro sono legati a un piccolo studio di efficacia, stiamo cercando di iniziare a testare l'efficacia della terapia metanumitiva interpersonale per i disturbi di personalità e lo stiamo facendo con un open trial, quindi una serie di casi singoli selezionati secondo dei criteri di inclusione specifici e questi pazienti vengono testati ogni tre mesi, abbiamo creato apposta per mettere la visualizzazione, allora utilizziamo una batteria, ovviamente il nostro primo obiettivo è curare il disturbo di personalità, quindi facciamo la sheet 2 estesa con l'intervista, poi diamo l'SCL90 per i sintomi, misure dell'ansia, della depressione e per quanto riguarda la mentalizzazione, la metacognizione, abbiamo fino adesso utilizzato il Meyer, Salove, Caruca, l'uso emotional intelligence task, che andremo a sostituire nei prossimi giorni con invece un test di capacità di mettere in sequenza corretta e di capire gli stati mentali dei protagonisti delle vignette, quindi un picture sequencing task, cioè sono delle vignette con dei protagonisti e l'abbiamo costruito io e Martin Brune di Bochum, sono il mio collega tedesco. E clinico e clinicamente come monitori? Perché questo è la testa. Certo, clinicamente abbiamo alcuni parametri che ci permettono di valutare se la seduta sta funzionando e più in generale la terapia sta funzionando. E un primo parametro che è ovvio per tutti i clinici è il sintomatico, cioè se il sintomo peggiora vuol dire che c'è qualche cosa che non sta funzionando. Spesso nei disturbi di personalità questo non è in realtà un criterio particolarmente rilevante perché sono talmente sensibili, soprattutto quelli più gravi, a eventi di vita che possono precipitare il sintomo, per cui non è che la terapia sta andando male, ma c'è stato un evento, un abbandono, un lutto, un problema relazionale, un problema lavorativo, un aumento dell'esposizione che genera un peggioramento, però sicuramente è un parametro da tenere in considerazione. Il secondo punto, adesso non te li dico in ordine gerarchico, te li dico come lo utilizziamo, è la qualità della relazione terapeutica. Cioè se in seduta c'è una rottura dell'alleanza, il paziente si distanzia e diventa più critico, non fa gli homework, quello che sia, vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando. Il terzo è ovviamente il miglioramento delle capacità metacognitive, cioè il paziente ha maggiore accesso ai propri stati mentali, li sa esplicitare meglio, comincia a capire gli altri che per noi è comunque un obiettivo in secondo momento, vuol dire che la seduta sta funzionando. Spesso questo in realtà è accompagnato a un aumento del dolore soggettivo, che però non è da considerarsi un dolore sintomatico, cioè accesso all'esperienza. Sì, perché il poter fare i conti sui temi dolorosi... Questo ovviamente è quello che vogliamo. E poi la capacità, questo già Bice lo diceva, di accesso alle memorie autobiografiche. Cioè se il paziente grazie a una conduzione del colloquio, diciamo efficace, racconta di più episodi specifici, questo è il segnale che la memoria autobiografica sta funzionando e quindi tutti i processi cognitivi e affettivi raccolti nelle memorie di vita sono più accessibili, percorribili, narrabili e condivisibili. Questo è un altro parametro importante, quindi questo cerchiamo di osservare costantemente. Senti, e poi c'è un'altra domanda che mi interessa, che poi è la successiva. Ma tu le terapie, quali sono i segnali che usi per chiuderle, per cominciare a avviarti in chiusura? Questa è una domanda drammatica perché sai, è sempre difficile. Però è vero che a un certo punto... No, devi farlo, assolutamente. No, ma è anche interessante perché a un certo punto è come se improvvisamente la seduta si svuotasse, si svuotasse di contenuti, o con una sensibilità perché magari si è lavorato insieme per anni, a un certo punto diventa un po'... Tu come ti muovi? I parametri classici, alla fine Freud, una delle cose che ancora oggi reggono è la capacità di amare e lavorare. Cioè se il paziente recupera la capacità di avere relazioni affettive o amicali e un funzionamento sociale adeguato al contesto socio-culturale, questo è un grande parametro. Se i sintomi si sono ridotti in maniera significativa, anche questo è ovviamente un indicatore molto importante. E l'indicatore emotivo tuo in seduta? L'indicatore emotivo è che la conduzione del colloquio comincia a assumere uno stile conversazionale più amicale. C'è nel senso che in realtà diventa più piacevole starci e più piacevole passare da un pensiero. Però serve meno. Però serve meno. E il paziente stesso lo comincia a capire. Ovviamente c'è sempre da fare un attimo di attenzione al fatto che non si stiano evitando degli altri temi problematici, ma questo lo esplori attraverso una serie di domande. A questo punto di solito quando comincio a sentire che il paziente ha compreso la maggior parte dei temi problematici, li ha elaborati e sta affrontando, questo è fondamentale, la terapia non è comprensione, non è comprensione e cambiamento, in alto cambiamento della vita quotidiana, costruzione di nuove aree, se sta facendo tutto questo, si ha una consapevolezza di quello che sta facendo, si porta la terapia a casa, l'autonomizza, sta meglio e alla fine in seduta si chiacchia ramabilmente di cose che interessano a tutti e due, a quel punto io comincio a dire guardi, mi sa che il grosso del lavoro l'abbiamo fatto. A questo punto quello che faccio, che per me è un altro dei parametri importanti, che il paziente abbia agersi nella terapia, che senta di poter decidere, senta di poter avere il controllo di quello che succede, quindi dico guardi, io le voglio bene, resto con lei, porteremo avanti la terapia per tutto il tempo che lei vorrà, però mi comincio, lei comincia a testimoniare che forse è anche il momento che lei possa pensare che un giorno non avrà più bisogno e a quel punto si rinegozia lo step down, quella terapia può durare un altro mese, tre settimane, un altro anno, due anni, perché il paziente poi... Magari una volta al mese, dirà data... Assolutamente, però questi sono i grossi parametri che ho utilizzato. Senti Giancarlo, il paziente è difficile, è un concetto che poi, tu sei esperto di disturbi di personalità, ma il paziente è difficile, lo riconosce e ti muove in un modo diverso che con altri tipi di pazienti, diciamo nel primo asse o più facili? Guarda, riprendo un po' una risposta che aveva dato Francesco Mancini in un'intervista che gli avevi fatto, perché aveva dato una risposta, secondo me, sensata? Nel senso che è chiaro che dipende dagli obiettivi che hai, sono d'accordo con quello. Se hai un obiettivo limitato e il paziente è in grado di svolgere quell'obiettivo, ok, va bene, quel paziente risponde a quel task. Complessivamente è chiaro che tutto il nostro intervento è stato disegnato sui pazienti gravi, quindi pazienti che hanno difficoltà relazionali, difficoltà nello stabilire una relazione terapeutica, livelli sintomatici spesso alti, un set di schemi interpersonali che gli rende difficile adattarsi, vivere la varietà delle relazioni interpersonali in un modo che sia benefico e soddisfacente e quindi il nostro intervento è o che abbiano delle risorse socioculturali o delle distruzioni metacognitive che gli impediscono di beneficiare il trattamento. E come modifichi il tuo intervento sul paziente difficile? Questa è una domanda un po' strana fatta a te che ti occupi sostanzialmente di pazienti difficili, quasi andrebbe rovesciata. In realtà il nostro intervento è tirato per i pazienti difficili, quindi noi di fatto, allora, ci sono chiaro tantissime cose che vanno adattate, però direi sicuramente un parametro è quello di lavorare sempre, chiamiamola nella zona terapeutica di sviluppo prossimale, cioè utilizzi le capacità di comprensione di se stesso e degli altri che il paziente ha e cerchi di promuovere il livello immediatamente successivo. La negoziazione degli obiettivi e dei compiti è costantemente in atto. E poi forse è anche quello con cui hai cominciato una modulazione più attenta della relazione. Allora, questo è fondamentale, perché sono pazienti difficili, può avere difficoltà perché gli mancano schemi, hanno poche risorse, sono bloccati da tante anticipazioni negative e questo può avere un impatto sulla relazione terapeutica, può non averlo. Molti di questi pazienti hanno delle aspettative relazionali che li portano a relazionarsi col terapeuta in una maniera che le rende la relazione difficile. Come terapeuti cerchiamo di attrezzarci in tutti i modi possibili, la riflessione in supervisione, la comprensione del caso clinico, la case formulation, in alcuni casi anche la terapia personale, quando il paziente ti va a toccare in due nuclei che non riesce a gestire. Diciamo che il terapeuta di terapia metanoidiva interpersonale costantemente osserva il proprio stato interno di fronte al paziente e cerca di trarne informazione per regolare l'assetto relazionale. Non con la stereotipia, questo per me è importante, che se io sto provando un'emozione negativa, questo il paziente me la... No, anzi, questo è pericolosissimo. Assolutamente, perché poi è colpevolizzante. Perché se qualcuno mi ricorda qualcosa che è solo mio, rischio di ributtaglielo addosso. E anche un errore tecnico gravissimo. Assolutamente. E guarda anche, per dire, io ho cominciato a occuparmi di narcisismo per anni, no, il paziente narcisista, è vero, ci sono anche prove empiriche che evocano più o meno in tutti i terapeuti quelle 4-5 reazioni tipiche. Possono essere senso di frustrazione, senso di sfida, senso di essere particolarmente figo, non visto, tenuto a distanza, un misto di queste cose. Sedotto, rifiutato, no? Allora, è chiaro che tutti i terapeuti tendono a reagire su queste cose, però il modo in cui l'impatto arriva a me non è. Perché io ho la mia storia personale, ma la mia collega ne può avere una diversa. E allora non posso dire, io provo questo perché il paziente è narcisista. No, certo no. Io provo questo perché il paziente è narcisista. E io sono così. Mi serve intanto per capire che, ok, non devo assecondare questo stato d'animo, quindi mi devo modulare. Dopodiché, l'impatto spesso è una cosa che invece, per poterlo regolare davvero, devo andare a analizzare dei miei temi personali. Questo è forse una cosa tipica, anche per gli allievi. Imparare questo, se vuoi, è la cosa che uno fa con l'esperienza, ma anche alla fine della scuola, quando si rende conto quanto porta... Allora, ti dico, se posso... Sì, sì. ...e continua a essere richiesta. A volte è sulla formulazione del caso. Ci sono alcuni pazienti che hanno degli schemi un po' più complessi, allora si tratta più di ragionare insieme. Sì, sì. Altri, il collega ha perfettamente chiaro tutto, ma non riesce ad andare avanti. E lì c'è un nodo personale. La supervisione serve a stanare quello e a sciogliarlo. Mi è chiarissimo. Dieci minuti e si è risolto. Sì, si vede. Sì, sì, ma poi, è chiaro, si tratta di rapporti di fiducia, quindi poi i colleghi si aprono, si guardano dentro, ah, mi sta portando qui. Bene. E il paziente, la seduta dopo va meglio. No, no, questo è chiaro, anche a me in supervisione. Senti Giancarlo, allora, questa è la domanda sulla terza ondata. Te la faccio bene? Sì. Cosa ne pensi in generale? In bene e in male? Quindi voglio che ti muovi anche da un punto di vista valutativo. Certo. Tu vedi dei principi che li accomunano o sono punti di vista molti diversi? Qualcuno l'hai studiale? L'hai studiato? Quale hai studiato? Perché, e chiuderei, come lo usi? Certo. Se c'è qualcosa che vai a usare nei modelli di terza ondata del cosmotivismo. Allora, guarda, la terza ondata è un fenomeno assolutamente eterogeneo. Sostanzialmente la cosa che realmente accomuna gli approcci è che tutti quanti avevano, in un certo senso, smesso di avere fiducia nel fatto che confutare le credenze irrazionali, che è il principio primo della CBT standard, fosse un fattore efficace, completamente di cambiamento, per la maggior parte dei disturbi. Diciamo che veniva dall'esperienza clinica. A quel punto si è sviluppata un insieme di modelli talmente eterogeneo che in termini terza ondata credo che descriva più il periodo storico che non la coerenza tra i modelli. No, infatti. Quello che mi piace appartiene più allo zeitgeist del momento, ovvero il paziente viene visto da tante prospettive differenti. C'è curiosità, c'è stimolo, quindi il terapeuta in formazione può imparare da tante fonti. Ogni singolo approccio, e qui andiamo più nello specifico, però ne cattura uno, ne cattura due, ne cattura tre, ma nessuno... Non è esaustivo. Nessuno è esaustivo. Allora, quello che mi convince meno è la vendita di modelli che pretendano di funzionare per il tazienda. Surtutto. Assolutamente. Questo purtroppo è un problema sociologico e non psicoterapia. Per quanto riguarda dove mi trovo più vicino, quello che conosco meglio, quello che mi piace di meno, ti dico che il modello forse che è più vicino alle cose che facciamo noi è la schema terapia. E Fonaghi, no? Fonaghi, però... Sì, però Fonaghi appartiene ad un altro mondo. Fonaghi è più di influenza, non lo metterei nella terza ondata, diciamo. Eh, però lui è molto... su pazienti borderline difficili, Giovanni ha fatto la formazione molto di... andare a vedere cosa pensi, a lavorare sull'incremento di competenze metacognitive. Allora, ti dico... ti rispondo fra un attimo. Resto un attimo sull'attività cognitiva e poi passiamo anche a Fonaghi. Schema terapia ha tante cose che secondo me sono coerenti con quello che facciamo noi, non hanno l'attenzione alle capacità metacognitive che abbiamo noi, anche forse il modo di riformulare gli schemi, anzi, il modo di riformulare gli schemi a mio parere è meno raffinato del nostro ed è anche poi... loro utilizzano una strategia differente, loro danno proprio una vista agli schemi, chiedono al paziente se si riconosce o meno. Sì, infatti sono i più vicini al cognitivismo tradizionale. Assolutamente. Noi invece gli episodi narrativi sono la chiave per capire gli schemi. Però, devo dire che detto questo, abbiamo anche radici storiche comune, perché poi la schema terapia nasce da Horowitz, anzi, George Kelly, Horowitz che riformula i costrutti personali in termini di stati mentali, e poi terapia cognitivo-analitica, schema terapia. Ryle. Ryle, assolutamente, anche un amico, una persona carissima, è il nostro modello che utilizzano il concetto di stati mentali per capire il mondo interno dei pazienti. Quindi comunque ci sono delle similitudini. La terapia dialettica comportamentale, la conosco ovviamente applicando disturbi di personalità, non l'ho mai studiata a fondo, è una terapia che ha forze e limiti. La forza è quella di proporre delle strategie di regolazione, il limite è, probabilmente, per la mia visione, è che non promuove abbastanza la conoscenza di sé e l'attribuzione di significati. Vabbè, questo Linian dice che lo rimanda alla terapia individuale. Eh sì, ho capito, però vai a vedere. Il punto su cui guarda ti dico, e qui un po' di pepe ce lo vorrei mettere, è invece l'approccio metacognitivo di Wells. Perché, secondo me, Wells ha catturato alcuni processi psicopatologici veri, fondamentali, e li studia anche bene. Cioè, la tendenza a rimuginare sulle proprie credenze attraverso i processi che lui descrive molto bene. Questo, noi, anche nel nostro approccio, con molti pazienti, nella fase di terapia appropriata, utilizziamo un approccio coerente con le tecniche di Wells. La cosa che io trovo semplicemente non credibile dal punto di vista scientifico, è che sia possibile curare i pazienti in cinque sedute. No, chiaro. Non ci credo, semplicemente non ci credo. Ma sono un certo tipo di pazienti ansiosi o depressi, lievi o moderati, cioè, lo dice. Adesso lui sta, lui in realtà lo dice, adesso sta lavorando sui border, ma è un early beginning, e come andrà a finire, secondo me, su alcuni, su alcuni pazienti, magari, io l'ho visto, che hanno fatto un lavoro analitico importante, o anche nostro, classico, e che arrivano con questo pezzo illuminativo di cui non si riescono a liberare, e c'è quell'intervento che può essere utile con quelle condizioni. Così come Watkins. Assolutamente, ma se mi vendi che quello è il trattamento, il paziente ti arriva, ti presenta alla clinica di Manchester, adesso non so dove sta a Wells, e capito, fai lo screening, e in cinque sedute ne hai salutato e magari di temi di vita non hai proprio parlato, no. forse per quel tipo di pazienti può essere utile, ma non sono quelli che... Ti direi di sì, ma secondo me c'hanno una fortuna perché tutti a Manchester vivono, cioè io non incontro i pazienti così. Andiamo all'ultima domanda, allora, che in realtà è Fonaghi, che in realtà è anche Fonaghi, l'integrazione con gli approcci non cognitivi, cosa ne pensi? Io ogni volta che faccio questa domanda dico che in realtà nessuno di noi oggi è in grado di fare un'integrazione, facciamo una... assommazione, andiamo lì, prendiamo, prendiamo, cosa ne pensi? Lo fai, come lo fai e ti è utile? E questa è anche un po' l'ultima domanda. Sì, allora guarda, io per anni mi sono portato l'etichetta di essere il più cognitivista degli psicanalisti e il più psicanalista dei cognitivisti, questo è un guaio mio, insomma, che adesso che forse sono riuscito a risolvere, non so con quanto è successo. Allora, l'approccio di Beckman e Fonaghi fra tutti quelli attualmente in giro è sicuramente quello che sento più vicino. Conosco Beckman, li ho visti insieme, tra l'altro sono due persone spiritosissime, divertenti, Beckman è un clinico eccezionale e devo dire che negli ultimi tempi stocco... Allora, abbiamo totalmente in comune l'idea che l'obiettivo principale o l'obiettivo principale della terapia è quello di aiutare il paziente a dare voce agli stati mentali, cioè a tradurre le cose che sono evidenti nel comportamento e nel non verbale e a dargli un senso. E questo ci siamo completamente. Quindi anche utilizzare le capacità mentalizzanti o metacognitive come guida del trattamento quindi non andare troppo al di sopra di quello che il paziente può capire è sicuramente un principio condiviso. Ci sono un paio di cose che adesso comincio a capire che sono delle differenze. Loro tendono a evitare le riformulazioni in termini di schema. Penso per un tentativo di staccarsi da una tradizione psicoanalitica. Secondo me anche perché vedono un tipo di pazienti ricoverati più gravi con meno risorse in cui lo schema è meno importante. Guarda non lo so li ho visti lavorare ho visto anche ripeto Batman all'opera dove lui lavorava secondo me il margine si poteva assolutamente fare per cui no lì c'è un margine importante poi questo però non so quanto oltre a promuovere le capacità riflessive hanno strutturato la parte per la ristrutturazione della personalità. Questo può essere un secondo limite o comunque un secondo marcatore di differenza. Quanto hanno chiaro lo schema di sviluppo? Lo schema di sviluppo è come soprattutto invitare il paziente a fare delle cose per rompere il pattern e costruire nuove modalità di comportamento e di attribuzione di significato. Cioè sembra più una terapia per aiutare a capire ma tu queste cose le uti? Assolutamente. Metti dentro delle cose che arrivano dei pezzi Kermberg prima hai citato Kerm metti dentro un pezzo Kermberghiano nel contratto se ti serve iniziale. Guarda allora io parto un po' dal principio che in psicoterapia si usa quello che funziona non importa quale sia la fonte poi lo sforzo è quello di dargli un razionale teorico però se con quello specifico paziente mi serve riformulare il contratto mi interessa anche poco averlo incluso nel manuale o non averlo incluso nel manuale tra l'altro abbiamo incluso nel nostro manuale recente la riformulazione del contratto non la Kermberghiano ma più o meno un po' l'ispirazione se serve si fa quello se io devo utilizzare con un paziente che ha un disturbo di personalità narcisistico ossessivo compulsivo e passivo aggressivo tipico paziente che vediamo noi che però in quel momento ha un processo rimuginativo o c'ha un doc ma io assolutamente utilizzo terapie di carattere comportamentale se servono terapie alla wellness se devo interrompere il rimuginio cioè la cosa importante è essere aperti a utilizzare qualche cosa che è coerente con la psicopatologia coerente con la case formulation e coerente con il fatto che posso servire al paziente senti Giancarlo ti faccio un'ultima breve domanda ma tu come lo vedi il futuro della psicoterapia oddio questa è una bella domanda io sono incorreggibilmente un ottimista cioè in qualche modo è come se il mio sguardo fosse sempre orientato al futuro e ci sono diecimila problemi legati a logiche di mercato legati a logiche di finanziamento legati al modo in cui trai avvengono scelti condotti selezionati quello è sicuramente un impatto rispetto alla difficoltà proprio a proporre pazienti trattamenti psicologici invece che psicofarmacologici e basta o nell'utilizzare lo scibile per il meglio del paziente quindi ci sono diecimila problemi però quello che vedo è che il terapeuta di oggi rispetto al terapeuta di 20 30-40 anni fa ha di fronte a sé una ventaglio di modalità di vedere il paziente molto più ampio e soprattutto più efficace più testate e i confini fra le scuole si sono ridotti assolutamente questo è fondamentale quindi l'allievo che vuole apprendere capire allargare la mente ha tanti strumenti quindi tu vedi una terapia meno ideologica assolutamente e più informata assolutamente assolutamente va bene Giancarlo grazie tanto grazie tanto per la chiacchierata e grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti